Tantissimi itinerari per un fine anno indimenticabile, con Boomerang Viaggi, dal 29 dicembre al 1 gennaio 2020. Fine anno in Veneto, Trento, Austria, Verona, Innsbruck, Bolzano, Merano. Fine anno in Campania, Capua, Salerno, Pompei, Ravello, Amalfi, Sorrento. Un concentrato di storia, arte, cultura e tradizioni. Festeggia il tuo ultimo anno in Puglia, nella terra del sole dei sorrisi, con secoli di storia e paesaggi d'incanto. E per la tua settimana bianca da sogno, dal 29 febbraio al 7 marzo 2020, Moena, la fata delle Dolomiti.